Boom di vaccini all'Ub di Soverato. Circa 600 vaccini nei 4 giorni di Open Day, di cui 350 nella sola giornata di domenica. L'Ub di Soverato funziona e convince, fornendo il servizio che gli utenti aspettavano da tempo. Nessun tempo di attesa in un percorso strutturato nel migliore dei modi, con la stessa metodologia utilizzata a Catanzaro, che prevede l'accesso in accettazione, il transito lungo le gradinate per compilare la modulistica fornita e raggiungere l'area per l'anamnesi e il lascia passare nelle sei linee vaccinali. La buona notizia in campo sanitario finalmente arriva anche nella cittadina ionica, in cui anche gli irriducibili temporeggiatori sono stati arruolati nella schiera degli oltre 18.000 vaccinati, che si contano nella provincia di Catanzaro. Non solo residenti, ma anche molti turisti in un trend in crescita che fa sperare di inalzare la percentuale dei vaccinati in vista della riapertura delle scuole a settembre. Il dato alimenta le analisi e conferma ciò che i pazienti sostengono da tempo, che quando i servizi funzionano in tanti sono pronti a usufruirne senza emigrare altrove. Un treno di riflessione dinanzi alla gestione delle strutture pubbliche e locali, in cui l'organizzazione carente è il primo tra gli elementi lamentato dai pazienti e dai loro accompagnatori. Il nuovo UB realizzato nel Palazzetto dello Sport riprenderà le attività nella giornata di giovedì, ma a differenza del primo weekend potrà accedervi prioritariamente chi ha effettuato la prenotazione attraverso la piattaforma regionale. In variato l'orario delle somministrazioni, compreso tra le 17 e le 23, dei giorni compresi tra giovedì e domenica, risultato quello più calzante in una città turistica che ha visto mettersi in coda tantissimi giovani, proprio dopo le 20 dei giorni festivi.